Bentornati, allora in questo video vi spiego perché secondo me questa candidatura all'Oscar di John Williams è davvero la meno meritata della sua carriera. Prima di cominciare un disclaimer per le teste di marmo, John Williams è il più grande compositore di colonne sonore vivente. Altro disclaimer necessario per quelli che leggono il titolo di un video e mediamente lo commentano senza averlo neanche visto. In nessuna parte del video dirò che la musica scritta John Williams è brutta. Dico però e ribadisco che è la meno meritata delle sue 54 candidature. Prima di parlare è necessario fare due parole sugli Oscar e sul fatto che molto spesso si tenda a far collimare la vittoria con l'Oscar con la qualità del film, del prodotto, della musica, delle scene, degli attori eccetera eccetera. Non è in realtà così o meglio non è automaticamente così perché non dimentichiamo mai che gli Oscar sono un premio dato dall'industria del cinema americana all'industria del cinema americana. Quindi insomma è un po' come dire cotto e mangiato tutto in casa e ci sono tutta una serie di dinamiche nella modalità di voto che è molto complessa. Poi magari un giorno potremmo farci un video apposta se la cosa vi può interessare. C'è tutta una serie di dinamiche e di modalità di voto che portano in certi casi a qualche struttura o a qualche inevitabile tendenza a votare per varie ragioni, a volte di corporate, a volte di simpatia, a volte di altre motivazioni, un determinato candidato. In più c'è il problema che però non c'è solo negli Oscar c'è un po' dappertutto di cosiddetti voti a pioggia cioè non è pensabile che un giurato dell'Academy ma ripeto ma di qualunque altro premio cinematografico si guardi in 90 giorni 120 film. E li guardi con quell'attenzione sufficiente e che dovrebbe essere necessaria a essere veramente in grado di dire no per il trucco il miglior film è stato questo qua su 120 o per la scenografia o per l'attrice femminile non protagonista non è pensabile. Cosa succede quindi? Che ovviamente si guardano quei non dico 10 diciamo 20 voglio esagerare 30 film di cui si parla di più e poi quando un film è piaciuto si fanno i cosiddetti voti a pioggia cioè mi è piaciuto sparo openheimer come film e allora metto anche miglior attore miglior attrice miglior sceneggiatura bla bla insomma è tutto miglior colonna sonora eccetera eccetera. Insomma quindi questo è proprio però è insito nel meccanismo di voto che forse non è difficilmente superabile o meglio sarebbe superabile se il numero di film fosse infinitamente più basso di quello che poi in realtà è. Allora perché dico che è la meno meritata delle tante candidature agli Oscar che ha avuto quel totem che è John Williams? L'ho ascoltata molto bene l'ho ascoltata prima di vedere il film l'ho ascoltata sul film e me la sono riascoltata dopo. Che cosa possiamo dire? È perfetta cioè che cosa vogliamo dire? John Williams insomma credo che è una vaga idea di come si faccia il lavoro il ragazzo ce l'ha. Non c'è neanche una scena che non sia musicata in maniera adeguata anzi è forse adeguata per John Williams è un aggettivo un po' un po' ingeneroso. è musicata tutto molto bene è però una delle tante è però una delle tante di Williams ed è una delle tante dei seri professionisti che fanno questo lavoro da anni che lo fanno comunque a un livello molto alto. Allora io io sarei proprio contrario a poter candidare delle colonne sonore di un sequel o di un prequel o di quello che vogliamo cioè praticamente quando esce un film soprattutto con una colonna sonora così forte come quella di Indiana Jones che poi inevitabilmente se si incolla al film e diventano assolutamente inscindibili. Quando si fa un sequel evidentemente cosa vuoi fare? Vuoi non utilizzare almeno la parte tematica più importante del film che ha avuto successo mondiale e di una musica che conoscono veramente tutti? Ovviamente almeno il tema principale si riutilizza. Ecco perché secondo me proprio è il concetto del sequel che non dovrebbe essere candidabile. Allora l'Academy ha cercato un correttivo a questo questo problema e l'ha fatto specificando che la colonna sonora del sequel deve avere almeno l'80% di materiale nuovo e il 20% può riutilizzare del materiale tematico che era stato utilizzato anche nel film precedente. Il problema è che qui ne facciamo un discorso di un tanto al chilo. Allora rifare il pane allora puoi metterci 800 grammi di farina integrale e 200 grammi di farina raffinata. In musica non è così e non lo è soprattutto quando c'è appunto una fase tematica così forte, così importante come quella di un film di Indiana Jones. Per cui anche se il materiale tematico è sicuramente inferiore al 20% nella durata, proprio nel minutaggio banale del film e di gran lunga inferiore, questo è fuori discussione, anche se è così quei pochi minuti sono decisamente determinanti e ancor peggio però tutto il resto della colonna sonora, ripeto, è fatta bene, è fatta ad arte da un grande maestro con la John Williams ma non ci dice veramente niente niente di nuovo. C'è un tema nuovo che è il tema di Elena o Elena come preferite che però detto tra noi non è tra le cose più memorabili che abbia scritto John Williams e ne ha scritte tante, sia chiaro. Cioè non è neanche lontanamente paragonabile al Marion theme, proprio è un altro pezzo scritto bene perché torniamo al punto di partenza, non c'è niente di brutto, cioè quando sei John Williams e alla musica dai del tu la roba che scrivi anche se non è fondata su una forte, una sincera ispirazione è comunque scritta bene e sul fatto che John Williams sappia scrivere musica credo che non ci siano molti dubbi però è un tema abbastanza convenzionale e che non aggiunge nulla a quello che ha scritto John Williams perché essere un fan sfegatato di John Williams come io sono non vuol dire non saper essere obiettivi o prendere tutto a piene mani senza discernere mai la qualità intrinsica di quello che ci viene proposto dall'artista quindi in questo caso non c'è niente di nuovo, non c'è niente di nuovo dal punto di vista dell'orchestrazione che però forse sarebbe stato impensabile o anche insensato aspettarsi da questo film non c'è poi niente di nuovo dal punto di vista dell'armonia e non c'è niente di nuovo neanche dal punto di vista della melodia dice ma come ancora nel 2024, sei qui a attaccarti ai temi... beh insomma se sei John Williams e sei scritto quello che hai scritto, sì, sei ancora lì a attaccarti ai temi perché è inutile che ce lo neghiamo, la musica di un film è il vestito del film, è la pelle del film per certi versi e ditemi quello che volete ma anche quando faranno Indiana Jones 18 dove andranno a recuperare Indiana Jones che è morto da 200 anni ma col DNA lo faranno rivivere per clonazione anche fra cent'anni vi diranno hai uscito Indiana Jones 18, com'è che la musica di Indiana Jones me la canti? voi cantareste Mi Fa Sol Do Re Mi Fa Sol La Si Fa La Si Do Re Mi cioè non ci entra a fare il tema Indiana Jones è questo qua, non si scappa, è il tema del primo film per cui che cosa io critico? Non critico tanto la colonna sonora quanto la scelta di averla voluta candidare all'Oscar per una colonna sonora bella ma che sicuramente non dice niente, non aggiunge niente alla grandezza, all'immensità di John Williams che di colonna sonora più bella di questa ne ha fatte una valangata, un po' come Morricone ha quindi dato l'Oscar per The Eight Full Eight che non è colonna sonora meno interessante che abbia fatto e non glielo hanno dato per almeno altri 20, almeno 20 che l'avrebbero meritato per cui caro Johnny senza nulla togliere all'immensità del genio che sei senza nulla togliere una briciola dell'ammirazione che io e chiunque faccia questo lavoro per te in maniera sconfinata cerchiamo anche di non prendere tutto a criticamente e diciamo beh, forse questa volta avresti potuto lasciare spazio a qualcun altro e decidere di non rendere candidabile questa colonna sonora per gli Oscar se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale attivando la campanella lasciate un like e se volete commentate e noi ci vediamo alla prossima puntata delle colonne d'Ercole grazie a tutti